Da Teggiano all'Argentina in nome dell'infanzia e dei suoi diritti, è stato siglato un gemellaggio tra il comune del Vallo di Diano e la città di Lobos nella provincia di Buenos Aires, concretizzatosi poi anche con la messa in scena nel teatro comunale della cittadina argentina del musical Cuore, tratto dall'omonimo libro di Edmondo Diamicis e diretto dall'attore Anthony Trotta, maestro dell'istituto comprensivo di Teggiano. Un centinaio di ragazzi delle tre scuole di Lobos e della scuola d'italiano Leonardo da Vinci si sono cimentati nel ballo, nel canto e nella recitazione, trovando il consenso del pubblico e l'attenzione anche dei giornali argentini. Lo scambio culturale tra le due realtà è stato voluto e promosso dal pediatra Luigi Dalvano e dalla festa dell'infanzia, che da 12 anni viene organizzata a Teggiano. Proprio l'impegno e l'azione del medico hanno portato alla collaborazione con il progetto internazionale Educreando, che ha curato tra l'altro anche la traduzione e l'adattamento dei testi del musical e ne ha reso possibile la messa in scena, al termine della quale è stato siglato il gemellaggio. Alla base dell'evento c'è l'accordo tra la festa dell'infanzia ed Educreando, che hanno deciso di promuovere una serie di attività educative e ricreative, in grado di agire sullo sviluppo emozionale e cognitivo dei più piccoli e sulla tutela dei loro diritti. Il musical è stato inserito nel progetto di prevenzione del bullismo portato avanti nelle scuole di Lobos, sotto la supervisione della dottoressa Isabel Manzione, argentina di origini salernitane. Una bella occasione di lavoro per Anthony Trotta, trasferitosi in Argentina per preparare in meno di un mese i ragazzi all'allestimento dello spettacolo. A completare il quadro delle collaborazioni, il giornalista Gustavo Timo, che ha prestato la voce narrante, la scuola di tango di Marielle Matteo e Fatima Karakoc e la direzione di cultura del comune di Lobos. Ora, Teggiano e la festa dell'infanzia si preparano all'appuntamento del prossimo novembre con la tredicesima edizione della Kermess dedicata ai più piccoli, organizzata, come sempre, in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.